Musica Nuovo appuntamento con le nostre notizie e ben ritrovati a tutti voi. Inaugurazione questa mattina del nuovo ramo trasversale che collega le strade provinciali 35 bis e 35 ter dei giovi a Serravalle Scrivia. La nuova tratta fa parte del progetto di ampliamento del Serravalle Retail Park che con l'imminente inaugurazione della fase C si appresta con i suoi 40.000 metri quadrati a diventare uno dei parchi commerciali più grandi d'Italia. Il nuovo collegamento favorirà il flusso delle automobili grazie a una doppia via di accesso e di uscita e agevolerà i veicoli da e per Novi Alessandria Tortona. Questa nuova viabilità consentirà di accedere più agevolmente al Serravalle Retail Park, alleggerendo il traffico ed evitando così code sia in accesso e sia in uscita, ha dichiarato al taglio del nastro l'amministratore delegato di Edes Giuseppe Roveda. Al taglio del nastro, oltre ai vertici di Edes e dell'outlet, erano presenti anche i sindaci di Serravalle Scrivia e Novi Ligure, oltre alle massime autorità della provincia. La cronaca adesso è morta nel primo pomeriggio a causa delle gravi ferite riportate. Rosa Ferrante, la donna di 63 anni di San Damiano d'Asti, è rimasta coinvolta ieri mattina in un incidente stradale tra due autovetture che si sarebbero scontrate frontalmente. Da una prima ricostruzione, sembra che la donna che camminava a piedi sia stata investita da uno dei due veicoli. L'incidente si è verificato nei pressi del centro storico di San Damiano d'Asti. La Ferrante, vista la gravità delle ferite, era stata subito trasportata in elissoccorta all'ospedale civile di Alessandria. Sul posto è intervenuta la polizia municipale di San Damiano d'Asti, che coaudivata dal comandante della locale stazione dei Carabinieri, sta conducendo le indagini. Ha ucciso senza motivo il collega di lavoro, processo a luglio in abbreviato, a carico del medico casalese, che ha accoltellato un anestesista. L'imputato è stato riconosciuto semi-infermo da una perizia psichiatrica. Emma Camagna. Il delitto lo ha commesso e per questo sarà condannato, ma con l'attenuante della semi-infermità di mente riconosciutagli da una perizia psichiatrica d'ufficio e beneficerà dello sconto di un terzo della pena perché ha scelto di essere giudicato in abbreviato. È il medico Massimiliano Ammenti, 52 anni, Rosignano Monferrato, che il 22 giugno 2017 ha ucciso a coltellate il collega Andrea Iuvara, 47enne, un ottimo anestesista genovese che non gli aveva fatto alcun torto. Ammenti, difeso dall'avvocato Mario Boccassi, sarà processato l'11 luglio. Risponde di omicidio volontario, i familiari della vittima sono parte civile. La tragedia, senza senso perché manca qualsiasi muovente, si è consumata di notte nella casa della vittima in località Varacca Bassa di San Martino di Rosignano. Qui Ammenti, che già in precedenza aveva tentato di entrare per uccidere il collega, lo ha coltellato a morte nel sonno. Mi prendeva in giro, disse poi al magistrato che lo interrogava. Cosa ha armato la sua mano? Poche circostanze sono certe. Ammenti è un introverso, provato da un'esistenza complicata, che si era inventato un odio con cui nutrire il suo smisurato rancore per la vita. La vittima, un estroverso e brillante che cercava sempre di stemperare l'atteggiamento cupo e vittimistico del collega. Insieme avevano lavorato al 118 e al pronto soccorso di Casale. A proda domani in Cassazione il caso sulla morte di Elena Ceste. I magistrati dovranno confermare o meno la condanna a 30 anni inflitta al marito Michele Boninconti, ritenuto responsabile sia in primo che in secondo grado dell'uccisione della donna. Nel corso del processo tecnico verrà valutato l'impianto di accusa del pubblico ministero Laura Deodato e degli inquirenti. Scolari e Marazzita, difensori di buoni incontri, si batteranno per dimostrare come la Ceste sia invece morta per una caduta fatale. Per la cura delle mani e del corpo il cliente pagava, però le società interessate al settore dei centri estetici non versavano un solo euro di tasse allo Stato. La Guardia di Finanza ha così scoperto un'evasione milionaria. Una ditta che opera nel settore dei centri estetici per la cura delle unghie, del viso e del corpo, con negozi ad Alessandria, Spinetta Marengo, Novi Ligure, Acquiterme e Tortona, è finita nel mirino della Guardia di Finanza per una evasione fiscale milionaria. L'amministratore delegato dell'azienda è stato denunciato alla magistratura per evasione fiscale internazionale perché su una imponibile accertata dal fiammeggiare la compagnia di Alessandria di oltre un milione di euro non avrebbe mai versato l'IVA, l'impresa che opera non solo in Piemonte ma su tutto il territorio nazionale ed aveva negozi sparsi in Piemonte, Lombardia e Liguria, ma invece la sede, quella centrale, in Romania. Una dichiarazione fittizia, quella della sede all'estero, e quindi per poter usufruire di un regime fiscale vantaggioso. Attraverso i libri condabili e gli accertamenti fatti all'estero, la Guardia di Finanza ha scoperto che in Romania non c'è nessuna sede registrata ma solo il domicilio di uno degli appartenenti all'azienda. I controlli effettuati dal comando compagnia delle fiammeggiare di Alessandria avrebbe accertato anche i regolarità di società del genere non solo fatte sul piano del pagamento delle tasse allo Stato. Si è spento l'altra notte a Torino Francesco Di Masi, papà di Luca, presidente dell'Alessandria Calcio. Grande tifoso Granata ha trasmesso al figlio la passione per il pallone. Prima di affrontare la grave malattia, ha gestito una nota boutique in piazza San Carlo a Torino. Una persona affabile, cortese, elegante. Così lo ricordano gli altri commercianti torinesi, gli ex clienti e le tante persone che lo hanno conosciuto. I funerali si svolgeranno venerdì alle 11 nella chiesa della Madonna del Pilone a Torino. Rinnoviamo ancora anche in questa edizione al presidente dell'Alessandria Calcio, Luca Di Masi, alla sua famiglia, le nostre più sentite condoglianze. Disagi sull'ex statale 10, Spinetta Marengo, Alessandria, dove hanno preso il via i lavori di ammodernamento dell'ex strada statale 10. c'è un restringimento di corsia e quindi inevitabili le code. Come vi avevamo annunciato, sono iniziati i lavori di ammodernamento dell'ex strada statale 10 tra Alessandria e Spinetta Marengo. Come vedete, a poche decine di metri da dove ci troviamo adesso, inizia il restringimento a una corsia che ovviamente, visto e considerato il traffico che abitualmente c'è su questa strada, preoccupano un poco gli automobilisti, soprattutto quelli che si devono recari ad Alessandria per lavoro a causa dei grandi intasamenti, soprattutto nelle ore di punta, vale a dire al mattino e dopo le 18 del pomeriggio, per chi invece lavora fuori città e deve rientrare. Questi lavori serviranno per realizzare una corsia di accelerazione lungo la strada in questione e per favorire l'immissione dei veicoli che arrivano in tangenziale da Acquiterme. I lavori dureranno 5 mesi, termineranno almeno sulla carta verso il mese di ottobre. I lavori, come vi dicevo, partono proprio dal platano di Napoleone che si trova subito dopo il ponte per arrivare fino alla rotonda della Stortigliona. C'è ovviamente la viabilità modificata, ci sono molti cartelli lungo questo tragitto e allora andiamo a vedere adesso, proprio dalla parte della Stortigliona, come si devono comportare gli automobilisti. Chi è diretto verso Alessandria e Acquiterme dovrà assolutamente alloggiarsi nella corsia di sinistra, mentre nella corsia di destra potranno circolare gli autoveicoli che sono diretti alla zona Orti, al centro della città, oppure alle autostrade Casale e Valenza. Prorogato ad Alessandria il termine per presentare i più bei balconi, le più belle vetrine fiorite, Alessandra Dallacà. C'è ancora tempo per i balconi fioriti di Alessandria, ma anche per le vie e le vetrine della città, per farsi belli e per partecipare all'omonimo concorso nato negli anni 90 da un'intuizione dell'allora sindaco Francesca Calvo. La manifestazione viene nuovamente riproposta quest'anno e intende coinvolgere, oggi come allora, sia i cittadini che gli operatori commerciali. L'amministrazione comunale ha infatti prorogato al 25 giugno il termine ultimo per partecipare. L'obiettivo è di migliorare il decoro e l'aspetto estetico della città e di promuovere fra i cittadini la cura del verde e l'abbellimento dei balconi, delle vie e delle vetrine, con fiori e piante ornamentali. Tutte le informazioni sono reperibili sul sito www.comune.alessandria.it slash balconi trattino fioriti, oppure compilando il modulo cartaceo disponibile all'ufficio relazioni con il pubblico di Palazzo Rosso. Una giuria tecnica valuterà le composizioni floreali delle categorie in gara sulla base di criteri di qualità e quantità di fiori e piante, di fantasia e bellezza estetica, di rilievo e rispetto del contesto architettonico-urbanistico. I premi verranno assegnati con una cerimonia pubblica, ai tre balconi, alle tre vetrine e alla via cittadina più meritevoli. Competere sarà come fare una passeggiata respirando a pieni polmoni. Basterà prendersi cura del proprio spazio verde. Saranno 12 le commissioni composte da 5 membri, ciascuna di assaggiatori dell'ONAV nazionale che per tre giorni confronteranno e sceglieranno i vini migliori del 2018 prodotti sulle colline dell'Alessandrino per stilare la classifica del 44esimo Marengo Doc, il concorso promosso da Asperia della Camera di Commercio di Alessandria. Le anticipazioni sono di Dede Vinci. E' iniziata ieri a Palazzo Moferrato la gara tra i 163 vini Doc DOCG della provincia di Alessandria per conquistare il premio Marengo Doc 2018, ovvero il riconoscimento più ambito che indica i vini migliori. A stilare la classifica finale che sarà svelata sabato 19 maggio sono dei giudici selezionati che hanno cominciato ieri le degustazioni. Il concorso enologico Marengo Doc è organizzato da Asperia che è un ramo della Camera di Commercio di Alessandria. Siamo giunti alla 44esima edizione, un premio che nel corso degli anni ha subito delle evoluzioni come giusto che fosse. In alcuni casi è anche stata aumentata la sticella delle valutazioni dei vini, questo vuol dire che comunque la provincia di Alessandria esprime moltissima qualità. Nel corso degli anni sono anche state introdotte delle categorie speciali, voglio ricordare quello per l'impremeditoria femminile, dei giovani, del biologico, quindi una serie di eventi e di premi ulteriori che confermano comunque l'importanza di una provincia vitivinicola come quella di Alessandria. La serietà della gara è garantita dal doppio anonimato, cioè bottiglie rese non riconoscibili e per i giudici solo bicchieri anonimi sul tavolo. A produrre i 163 vini sono 65 aziende delle zone di Ovada, Aquiterme, Novi, Gavi, Tortona e Monferrato Casalese. Si tratta di 6 aromatici, 47 bianchi, 99 rossi e 11 spumanti. La Compagnia San Paolo e la Fondazione CRT salvano il bilancio consuntivo del 2017 del Teatro Reggio di Torino. I due enti affiancheranno il Comune e metteranno a disposizione le risorse necessarie per raggiungere l'equilibrio dei conti. In una nota il teatro fa sapere che continuano il lavoro degli uffici del Reggio con la supervisione del sovrintendente William Graziosi per chiudere in pareggio e anche quello insieme al direttore artistico Alessandro Galoppini per realizzare un progetto triennale che garantisca alta qualità artistica e sostenibilità economica. Le due fondazioni bancarie nel corso del consiglio di indirizzo che si è riunito ieri hanno ribadito il loro pieno appoggio e il Reggio. Dopo tante polemiche il 18 giugno potrà presentare la sua stagione 2018-2019. Siamo quasi al calcio. Sarà in trasferta la prima partita per l'Alessandria Calcio che domenica per la gara di andata degli ottavi di finale dei play-off affronterà i bresciani del Feral Pisalò, fischio d'inizio alle 20.30. Mercoledì 20 maggio la partita di ritorno, questa volta in casa, allo stadio Moccagatta di Alessandria. Per il basket invece vi segnaliamo un grande evento questa sera alle 20.30 al Pala Ferraris di Casale Monferrato con la partita di ritorno dei quarti di finale dei play-off della serie A2 per la Junior Novi più Casale. All'andata gli Alessandrini avevano sconfitto l'Udine per 83-81. Finale promozione nel torneo Serie C Silver con il Retail Park Serravalle impegnato sempre stasera nella gara di ritorno con il Saluzzo. Nella pagina sportiva che invece vedremo tra poco e che è stata curata da Fabrizio Mattana parleremo di pallavolo e anche in questo caso ci sono i play-off per la formazione Novi. Poi le previsioni del tempo, la rubrica delle notizie utili. Grazie per averci seguito, arrivederci.